Finisce senza vincitori ne vinti, la sfida tutta giallorossa del Rubens Fadini fra Giulianova e Termoli dopo 90 minuti di gioco che non passeranno certo alla storia per lo spettacolo offerto ai 500 presenti. E' successo tutto nel finale con il vantaggio di Maurizio Nassi al 41esimo ed il pareggio all'ultimo assalto al 94esimo di Felici. Per la squadra molisana è un punto pesante dopo una settimana difficile, per la formazione di Francesco Giorgini una domenica no, in un match che dire deludente è davvero poco. La prima emozione arriva all'ottavo con un tiro cross di sborgia che fa correre un brivido alla retroguardia termolese. La risposta ospite è affidata al 17esimo a Di Matera che in contropiede mira all'angolino mettendo di pochissimo fuori. Fra due squadre in cerca di riscatto ci si aspetterebbe qualcosa di più e invece non accade poi praticamente nulla con il gioco a ristagnare a centrocampo e con i due portieri praticamente inoperosi. Al 33esimo Mariani cade in area molisana ma Moro Dischio lo ammonisce per simulazione vedendo probabilmente giusto dopo un'azione che non sembra fallosa. Nella ripresa si riparte con la squadra di Cardamone pericolosa al quarto con un tiro di Felici deviato in angolo da falso. Ma è un fuoco di paglia visto che per oltre 20 minuti poi non accade davvero nulla tranne la solita prevedibile girandola di sostituzioni che non mutano l'inerzia di una gara a dir poco imbarazzante che vede però una fiammata al 29esimo con il neoentrato Falco che chiama Marconato alla prima parata della gara. Al 33esimo si rivede il Termoli con una punizione di Romano ben parata da falso. Il finale più vivo con le due squadre che si allungano e così accade che al 37esimo Nassi chiama alla parata miracolosa Marconato prima dell'incredibile errore di Marozzi che ribadisce fuori a porta spalancata. Ma il gol Giuliese è nell'aria e arriva al 41esimo grazie a Nassi che al volo non lascia scampo a Marconato. L'ex giocatore dell'Ancona esulta eccessivamente e viene anche ammonito dal direttore di gara. Ma le sorprese non sono certo finite perché al 94esimo Felici realizza il gol del pareggio che per i molisani vale comunque oro. Io ancora sono arrabbiatissimo che tu non puoi prendere un gol al 95esimo con squadra schierata su una punizione da 70 metri. Quindi è inconcepibile. Quindi c'è più amarezza da parte mia che gioia per il primo gol qui in casa a Giulianova che lo aspettavo da tanto tempo. È una situazione paradossale dai campi, dall'albergo, agli stipendi. Io spero che si risolva più presto perché comunque a me scoccia quando poi le persone ho sentito 2-3, non una parte di tifoseria, 2-3 che continuamente urlano il mio nome. Però loro devono anche capire che io come i miei compagni ci allineiamo con delle difficoltà oggettive che è veramente dura andare avanti, è veramente dura. Volevo ringraziare il Giulianova Calcio per tutto quello che ci ha messo a disposizione visto l'attuale nostra situazione, parliamo così, sono stati veramente dei signori. In campo ci andiamo, infatti abbiamo fatto una forma di protesta, nel senso abbiamo messo le maglie ufficiali col colori ufficiali del termoli calcio perché noi vogliamo sudare per questa città, non per l'attuale dirigenza e guida tecnica. La posizione della squadra sia molto netta, è da tre settimane che non ci alleniamo con l'allenatore o presunto tale, a darci una mano c'è il preparatore di Portieri Cardamone che ringraziamo tutta la squadra e il preparatore atletico Barrea. L'ultima Marco Nato, da domani cosa succederà? Non lo sappiamo, vedremo i risvolti in questi giorni.